3, 2, 1, via! 100, destra 5 e sinistra veloce! 150, destra 5! 200, destra veloce! 100, destra 4! 100, destra 5 e sinistra 2 esposta! 100, destra 4 esposta! 150, sinistra veloce! 150, destra 4! Sinistra 4! Sinistra 3! Destra 3! Destra 4 e sinistra 4! 150, sinistra 5! 100, destra 5! 100, perfetto! Destra 4! 100, destra 3! Sinistra 3! Destra 3! Sinistra 3! 150, destra veloce e sinistra 5! 100, destra 2! Perfetto! Perfetto! 150, destra veloce! 150, sinistra 4! Destra 3! 100, sinistra 4! 100, sinistra 3! Destra 2! 150, sinistra veloce e destra 3 esposta! Sinistra 4! Destra 5 e sinistra veloce! Destra 5 esposta! 150, sinistra 3 e destra 2! 100, sinistra 3 e destra 2! 100, sinistra veloce! 100, continua a spingere! 150, sinistra 3! Destra 4! 150, destra 5! Sinistra 3! Arrivo! Siamo stati più veloci! a Grazie.